Giorgia Meloni annuncia la separazione dal marito Andrea Giambruno. Dopo quasi dieci anni di relazione, Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno hanno annunciato ufficialmente la loro separazione. Questo annuncio segna la fine di un capitolo importante nella vita della leader italiana. Nel suo comunicato, Meloni ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi insieme a Giambruno, riconoscendosi ai momenti felici che le sfide che hanno affrontato. Tuttavia, le loro strade si sono divise, e entrambi hanno deciso che è arrivato il momento di andare avanti. Un aspetto particolarmente toccante del messaggio di Meloni è stato il suo impegno a difendere l'amicizia tra lei e Giambruno, oltre a garantire il benessere della loro figlia di sette anni, Ginevra. Meloni ha sottolineato l'importanza di preservare la relazione genitoriale per amore della bambina. Inoltre, nel suo messaggio, Meloni ha affrontato le voci e le speculazioni che circondano la sua vita privata. Con forza, ha dichiarato che nessuno riuscirà a indebolirla o a scalfire la sua determinazione. Ha usato una metafora potente, paragonando se stessa a una pietra e coloro che cercano di danneggiarla a gocce d'acqua. Questa separazione rappresenta un momento personale significativo nella vita di Giorgia Meloni, una figura pubblica ammirata da molti. Mentre si prepara per sfide politiche future, affronta anche una nuova fase della sua vita personale. La sua capacità di gestire questa transizione con grazia e determinazione sarà seguita con interesse dai suoi sostenitori e dalla stampa nazionale.